Per evitare che sia l'ultima pagina di questa stagione il Biceglie ha una sola via percorribile vincere domani a Manfredonia la finale playoff del Girone A di eccellenza o in 90 minuti o eventualmente in 120 si gioca per la prima volta in questa stagione al Miramare fischio d'inizio previsto alle ore 16.30 non sono mancate le polemiche per quanto riguarda soprattutto la sede di gioco scelta a pochi giorni della gara e i prezzi dei biglietti per i sostenitori ospiti ieri in Erazzurro Stellati hanno diffuso un comunicato ufficiale a tal proposito Dobbiamo solo pensare a noi, pensare alla partita noi squadra cercare di fare il massimo per portare questa vittoria Il Biceglie arriva alla gara di domani più rodato avendo giocato domenica scorsa alla semifinale contro il Corato l'ultimo appuntamento ufficiale del Manfredonia invece risale a tre settimane fa Può essere utile, essere fermo da tre settimane può andare male come bene però ormai è così e noi io credo che ci farà meglio, sarà meglio così A differenza di quanto accaduto col Corato il Biceglie non può fare affidamento sul pari al termine dei tempi supplementari per accedere allo spareggio secco La partita col Corato sì, avevamo due risultati che ci servivano ma adesso dobbiamo essere concentrati e uscire a vincere questa partita per passare Nonostante più di un problema fisico, Bonicelli ha collezionato numeri importanti nella sua prima esperienza a Biceglie, nove retti in venti presenze Speriamo di continuare a sommare i gol o aiutare la squadra in qualsiasi modo in queste partite che sono dove più valgono, dove più valgono queste cose